Ciao ragazzi, qui Lorenzo Miglietta di Grafigata.com e questo è il terzo episodio di una serie di video che ho chiamato Diventare Grafic Designer Questa serie di video è dedicata a come diventare appunto un graphic designer ma soprattutto a come costruire la propria carriera nel mondo della grafica, nel mondo del design Nei primi due video ho parlato di come diventare un graphic designer che cosa bisogna studiare, come e dove bisogna studiare, insomma tutte queste robe qua Ovviamente ti lascio il link qua sotto se vuoi andare a recuperare quei video se ancora non li hai visti Ma in questo video voglio invece addentrarmi un po' di più in quello che è il vero e proprio mondo del lavoro creativo e in particolare voglio concentrarmi su una domanda che secondo me è molto importante Bisogna specializzarsi oppure no? Bisogna essere uno specialista di una nicchia ben precisa, quindi bisogna scegliere una propria nicchia oppure bisogna essere un generalista, quindi sapere un po' di tante cose ma non essere specializzato in una cosa in particolare Bene, in questo video voglio proprio andare a rispondere nel dettaglio a queste domande cercando di esporre quello che è il mio punto di vista, quello che è il mio modo di vedere le cose e spiegare un pochino perché la penso in questo modo e cosa potresti fare per migliorare la tua carriera creativa In un libro che ho letto qualche tempo fa che si chiama The Win Without Pitching Manifesto di Blair, Enns o qualche nome del genere che ora non mi ricordo vengono descritti due livelli verso la strada per il successo per un creativo Questi due livelli sono così distinti Il primo livello è il livello del dico sì a tutto Io dico sì a tutto Quindi arriva qualcuno che mi propone di fare delle magliette, delle grafiche per delle magliette arriva qualcuno che mi propone di fare un logo e lo faccio arriva qualcuno che mi propone di realizzare un video e dico vabbè comunque qualche cosa di video lo so e faccio anche quello Dici sì a tutto Vai a realizzare progetti, vai a fare dei lavori creativi di qualunque nicchia, di qualunque settore Magari un video, magari una fotografia, magari una grafica per i social, una grafica per delle magliette un logo, un impaginato eccetera 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 E questo è un modo di imparare in fretta moltissime cose diverse estremamente efficace ed è anche il modo migliore secondo me per capire qual è la tua strada per capire che cos'è che ti piace di più fare se ancora non hai deciso, se ancora sei in una fase in cui dici ok a me piace magari la UX però mi piace anche il motion design una strada fantastica per capire quale strada seguire magari potrebbe sicuramente essere fare un po' di tutto Arriva però un punto quando si dice sì a tutto quando si dice, quando si cerca di fare qualunque tipo di lavoro che i progressi che si fanno ad un certo punto si fermano perché se un giorno fai un logo e un giorno fai una brochure e un giorno dopo ancora fai un sito web non potrai mai effettivamente arrivare a essere un esperto di qualche cosa ma saprai sempre un pochino di qualunque cosa e questo come dicevo è un ottimo modo per imparare velocemente ma ad un certo punto si deve arrivare a quella che è la seconda fase del successo la seconda parte verso la strada per il successo e questa strada è dire no a quasi tutto e in pratica questo significa saper a cosa dire sì e a cosa dire no e cioè a quali tipi di lavoro andare a realizzare e qual è quindi la nicchia su cui concentrarsi qual è il settore, qual è l'argomento, qual è il tipo di lavoro su cui andare a specializzarsi e su cui andare a diventare un esperto io sono 100% d'accordo con questa definizione qua con questa definizione di queste due fasi della strada per il successo nell'ambito creativo e ti spiego perché con un semplicissimo ragionamento quando sono andato online col primo video di questa serie di episodi su come diventare un graphic designer molti utenti sui vari social, sulle varie piattaforme mi hanno commentato, mi hanno scritto in qualche modo dicendo ma Lorenzo c'è davvero così necessità di insegnare a come diventare un graphic designer? ce ne sono già tantissimi la competizione è già immensa, enorme c'è una marea di persone che si definiscono progettisti grafici che fanno graphic design e quindi che senso ha dire ai giovani, dire a chi vuole imparare che può diventare un graphic designer e spiegargli come fare? e questo è vero perché c'è una grandissima competizione nel settore della creatività in generale ma in realtà la situazione è molto più complicata di quello che pensavano le persone quando mi hanno scritto perché probabilmente quelle persone consideravano solamente il mercato italiano quindi magari la provincia italiana oppure la loro città e nel loro paese, nella loro città c'erano già tanti designer ma la realtà dei fatti è che viviamo in un mercato globale e in realtà competiamo a livello globale e competiamo anche con graphic designer che vengono da paesi i cui stipendi medi, i cui guadagni, i cui soldi che girano all'interno dell'economia sono decine, centinaia di volte inferiore a quelli dell'Italia noi ci troviamo a competere con piattaforme come Fiverr o come Upwork o piattaforme di questo tipo dove puoi trovare un graphic designer che ti fa un logo a 5 dollari o ti realizza un sito a 100 euro delle offerte di questo tipo capisci quindi che la competizione è davvero immensa e ad un certo punto, a questo punto, mi sorge una domanda abbastanza spontanea ma ha davvero senso competere all'interno di questo mercato? assolutamente no ma allo stesso tempo ha senso diventare un graphic designer ma bisogna competere in modo diverso e in particolare ti voglio fare un esempio prima di spiegarti che cosa intendi guarda queste figure e trovami in pochissimi secondi il cerchio in mezzo a tutti quei triangolini e quadratini quanto tempo ci hai messo a trovarlo? secondo me un po' più di quello che potevi pensare ma guarda adesso quanto tempo ci metterai a trovarlo è stato molto più facile trovare quel cerchio in mezzo a quella quantità di triangolini e quadratini per il semplice fatto che quel cerchio si differenziava era diverso dagli altri ed era completamente diverso dagli altri e non era diverso solamente perché aveva una forma diversa ma era diverso perché aveva una forma, un colore e una dimensione diversa e quello significa posizionarsi quello significa differenziarsi all'interno di un mercato essere quelli diversi essere quelli facili da riconoscere, facili da trovare e la prima cosa da fare per essere facili da trovare per differenziarsi è specializzarsi io vedo all'interno di quell'esempio di prima tutti i quadratini e i triangolini come i graphic designer generalisti non c'è niente di male a esserlo ma ti trovi a competere con centinaia di altri quadratini e triangolini mentre invece se ti vai a specializzare verticalmente su una nicchia ben precisa e diventi un esperto in quella nicchia andrai a essere il cerchio arancione grosso più grande degli altri quindi più facile da riconoscere e questo ragionamento qua è alla base di tutto il concetto del posizionamento di marca del branding, del brand positioning e c'è un motivo per cui Gucci può vendere un portafoglio a non lo so quanto costa un portafoglio di Gucci 1000 euro o qualcosa del genere mentre invece lo stesso identico portafoglio c'è proprio lo stesso materiale, stessa forma stesse finiture, tutto identico venduto con un altro marchio magari nel negozietto sotto casa faticherebbe a venderlo al 10% di quel prezzo questo perché dietro quel portafoglio, dietro quel marchio c'è un posizionamento di brand c'è un posizionamento di differenziazione, di esclusività e lo stesso secondo me dovrebbe fare un graphic designer specialmente se vuole intraprendere la strada del freelancing c'è Emanuele Ema che è socio insieme a me e a Marco all'interno di Grafigata che è specializzato verticalmente estremamente in modo super mega verticale nel logo design e ha strutturato un'intera comunicazione che è totalmente focalizzata sul logo design e quindi si differenzia, si distingue rispetto agli altri e viene cercato, viene riconosciuto dai clienti, dalle persone e da chiunque perché lui è un esperto è specializzato in quella nicchia ben precisa e lo stesso puoi farlo tu andando a specializzarti in una nicchia ben precisa come ti dicevo prima se ancora non hai ben capito quale possa essere questa tua nicchia prova ne tante segui quella che ti dicevo prima quella che è la fase 1 della strada per il successo del libro Win Without Pitching Manifesto di cui ti lascio il link per acquistarlo qua sotto nel caso fossi interessato e prova tante strade diverse ma se invece hai già una nicchia hai già un settore in cui ti senti un pochino più sicuro di te oppure in cui hai una grossissima passione allora quella può potenzialmente diventare la nicchia in cui tu puoi diventare l'esperto in cui tu puoi diventare lo specialista invece di essere un generalista come la maggior parte degli altri designer di tutto il mondo all'interno della Grafigata Academy ad esempio noi offriamo dei corsi che ti aiutano a specializzarti in determinate nicchie ad esempio il corso Logo Hero per diventare un esperto nel logo design offriamo ad esempio il corso in Design Academy per diventare un esperto nel mondo del settore nella nicchia dell'impaginazione grafica insomma sono corsi che ti vanno ad aiutare a specializzarti in una nicchia cosa che secondo me è veramente fondamentale se vuoi costruire una carriera di successo nel settore della grafica prima di concludere però voglio fare due chiarimenti il primo chiarimento è che se ti vai a specializzare in una nicchia non significa che vai a ignorare il resto io credo fortemente in una costruzione in una formazione personale di quella che gli americani chiamano T-shaped skills cioè competenze a forma di T ci sono dei livelli di competenza e ci sono delle conoscenze da acquisire in ciascuna di queste conoscenze puoi raggiungere un determinato livello di competenze quindi ad esempio un designer specializzato nel branding avrà tanti livelli di specializzazione tanti livelli di competenza proprio sul branding ma per essere veramente un designer esperto per essere veramente un professionista nel mondo del branding ha bisogno anche di avere delle conoscenze perlomeno base di tante altre cose come ad esempio dell'impaginazione del layout del web design del marketing e di tutte queste cose qua quindi si viene a formare una forma a T poi pian piano che si cresce che ci si specializza sempre di più i livelli di competenza aumentano e devono aumentare secondo me per raggiungere una forma che diventa quasi una sorta di Y quindi dove sei specializzato ed esperto e estremamente competente e hai tanti livelli di competenza nella tua nicchia di riferimento ma hai anche un buon livello di approfondimento di conoscenze e tanti livelli di competenza quindi anche nelle nicchie affini quindi nel caso del branding devi avere buone conoscenze anche dei software di grafica vettoriale magari o anche di marketing e il secondo chiarimento che voglio fare è che non basta scegliere una nicchia iniziare a studiare iniziare a dire ok questa è la mia nicchia ok questo è il settore su cui sono specializzato e improvvisamente costruire la propria carriera di successo nel graphic design è un ottimo primo passo è un buon primo passo ma appunto è un primo passo perché poi ci sono tutta un'altra serie di cose che vanno fatte di azioni che vanno strutturate di competenze da acquisire che vanno acquisite nel tempo ma che comunque vanno a contribuire al costruire una un'importante una buona carriera di successo nel mondo del graphic design tutte queste qua sono cose di cui ti andrò a parlare nei prossimi video in futuro quindi mi raccomando iscriviti a questo canale di youtube e attiva la campanellina delle notifiche così riceverai una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video molto bene se questo video ti è piaciuto quindi schiaccia quel pulsante di mi piace mi raccomando lasciami un commento qui sotto facendo domande chiedendo cose esponendo i tuoi dubbi o raccontandomi il tuo punto di vista o la tua storia insomma lasciami un commento qui sotto e come ti dicevo se ancora non sei iscritto iscriviti al canale di youtube noi ci rivediamo nel prossimo video iscriviti al canale